La settimana santa di Molfetta raccontata su tela dolce, opere artistiche ovali di cioccolato dipinte con la tecnica dell'areografia in diretta speculare lucida. Un evento artistico che ripercorre la fede della comunità molfettese nel periodo dell'anno più atteso e suggestivo e la genialità di un pasticcere artigiano del buon gusto di rendere certe creazioni capolavori. In linea con questo sentimento di raccontare la terra con le nostre manufatti artigianali, dedichiamo a Molfetta un'opera rappresentando quello che per Molfetta è il tesoro della sua tradizione, ossia le statue della settimana santa. È Via Lucis la prima mostra di arte sacra promossa dalla Fondazione Musicale Vincenzo Maria Valente Onlus, insieme alla Confartigianato. In corso al terrione passari di Molfetta è visibile fino al prossimo 24 maggio. Abbiamo voluto accogliere il suggerimento del maestro Ciotti, io lo definisco maestro perché si esprime come un artista sul cioccolato. Il maestro ci ha offerto questa occasione di omaggiare la città di Molfetta con le sue opere, quindi riportare sul cioccolato quelli che rappresentano uno dei tesori di Molfetta, quindi le statue della settimana santa. Sono molto contento di essere qui e queste sono opere molto molto belle che hanno una tecnica molto particolare che non c'è da nessun'altra parte al mondo.